Definire le linee di raccordo tra gli orari di ingresso e uscita delle scuole superiori e dei servizi di trasporto pubblico, locale ed extraurbano, questi punti salienti della riunione in videoconferenza del tavolo di coordinamento per la didattica in presenza, istituito presso la prefettura in sede alla conferenza provinciale permanente. L'anno scolastico, il cui inizio ormai vicino, prevede lezioni in presenza, mentre i trasporti non possono superare l'80% dei posti disponibili in zona bianca e gialla. I trasporti dunque partiranno nel rispetto delle ultime linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che prevedono ad esempio il rispetto del distanziamento, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti per le mani e percorsi unidirezionali di salita e discesa dal mezzo. Altro tema trattato, gli assembramenti davanti le scuole e le fermate degli autobus. Il prefetto, si legge nella nota, ha invitato i sindaci di intensificare i presidi di vigilanza da parte del personale delle rispettive polizie locali, assicurando nelle prime settimane di ripresa dell'attività didattica anche un ausilio da parte delle forze di polizia. Intanto arrivano le indicazioni per le scuole della regione attraverso una circolare, firmata dagli assessori all'istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla e alla salute Ruggero Razza. Controllo di avvenuta vaccinazione tramite l'applicazione messa a disposizione dal Ministero per l'Istruzione, raccomandando l'estensione dei controlli in ingresso a scuola anche al personale esterno e ai genitori degli alunni. Nessuna certificazione invece per gli studenti. Chiunque abbia una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo dovrà restare a casa. Mascherine per tutti tranne per i minori fino a 6 anni e soggetti con disabilità e per quelle classi composte da studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o certificato di guarigione avvenuta. Rimane sempre il distanziamento interpersonale di un metro. Lezioni in presenza dunque, ma possono essere sospese in modo totale o parziale con provvedimento del Presidente della Regione in zona arancione o rossa. A livello locale, in caso di emergenze specifiche, da parte del Sindaco, sempre zona arancione o rossa, previ obbligatorio parere positivo dell'ASP di competenza territoriale. DAD solo in caso di particolari criticità su indicazione del dirigente scolastico. Stesse disposizioni nazionali anche per gli alunni fino a 6 anni e università. Per i percorsi TS e corsi di formazione per adulti è prevista per allievi e corsisti l'esibizione del Green Pass o l'esito del tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. I dirigenti scolastici potranno richiedere all'ASP la somministrazione di vaccini a scuola e il monitoraggio sanitario attraverso i tamponi. A proposito di monitoraggio, si effettueranno i test salivari seguendo le modalità dettate dall'Istituto Superiore di Sanità di intesa con la struttura commissaria nazionale per l'emergenza Covid-19. Gli ambiti provinciali dell'ufficio scolastico regionale indicheranno al Dipartimento Prevenzione dell'ASP le scuole selezionate per il campionamento. Quest'ultima, informando anche il Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, comunicherà il calendario degli accessi a cadenza quindicinale in scuole diverse, si precisa nella nota, in modo che il dirigente scolastico possa individuare il gruppo di alunni da inserire nello screening, correlativo consenso di chi esercita la potessa genitoriale. Sarà poi, prosegue, la competente USCA scolastica a occuparsi della somministrazione dei tamponi salivari e del trasferimento dei campioni al laboratorio per l'esame diagnostico. Saranno invitati dunque poco più di 8.000 studenti al test salivare ogni due settimane, prevedendo di testare effettivamente nelle scuole Sentinella almeno 4.856 alunni ogni 15 giorni.